Sosta archiviata, c'è di nuovo il campo. Torna protagonista nel weekend il campionato di Serie B di Calcio 5 con gli incontri dell'ottava giornata, che propone per domani pomeriggio abbinamenti di differente difficoltà per le tre formazioni della BAT. Il Fuzzal Bisceglie ospite al Paladolme nella capolista Borussia Policoro. Il Fuzzal Barletta fa visita alla Cenerentola Venafro. Il Barletta Calcio 5 gioca al Paladisfida Mario Borgia contro il Monte di Procida, terza forza del Girone B. Il compito più difficile, almeno sulla carta, tocca la formazione di Francesco Ventura di scena tra le Muramiche contro il Borussia. La prima della classe è riduce dal K o esterno rimediato a Manfredonia, il primo della stagione. Il Fuzzal Bisceglie, invece, arriva al match contro i Lucani con una serie utile che dura da ben cinque partite. Allungarla ulteriormente significherebbe entrare di diritto tra le protagoniste di questo campionato. Sarà una partita importantissima per la nostra stagione, segnerà o meno le nostre sorti del campionato. Quindi noi saremo concentrati, speriamo di farci trovare pronti alla partita perché sicuramente sarà seguita dal nostro pubblico. E al momento distante dalla zona playoff, invece, il Fuzzal Barletta, un eventuale successo in trasferta contro la Cenerentola Venafro, tuttavia consentirebbe ai biancorossi di Leo Ferazzano di allontanare la zona a rischio della classifica e magari rientrare nella bagarca riguarda il quinto posto, l'ultimo utile per accedere agli spareggi promozione, potendo contare anche su un calendario tutt'altro che proibitivo sino al termine del girone da data. Molto piostico si presenta, invece, il cammino del Barletta Calcio 5 sino al giro di Boa, a cominciare proprio dal match casalingo di domani contro il Monte di Procida. Il tecnico dei biancorossi Antonio Di Benedetto avrà a disposizione anche il brasiliano Caio Victor Sousa, il 24enne laterale offensivo che in Italia ha già indossato la maglia del San Vincenzo Genova Fuzzal, è stato ingaggiato proprio in settimana, reduce da quattro sconfitte consecutive prima della sosta. Il Barletta Calcio 5 è chiamato a conquistare i primi punti della stagione alla palla di sfida Mario Borgia. È un avversario molto tosto, un avversario che ha dimostrato di meritare la classifica che ha, però noi abbiamo la necessità di sfatare il tabù della palla di sfida, i ragazzi si sono preparati, sono carichi e sono sicuri che diranno la loro.